Now, say my name è stato avaricato ma c'è un po' ci ho detto male è intelligentissimo ah, capito perché così vuoi dire bravo perché così vuoi dire io non posso cambiare è perciò hai fatto qualla cristina nè merda o tiravo al vento quando mi hanno scattato la foto non lo so vabbè comunque si ricomincia questa stagione e questa stagione cerchiamo di passarla, eh aspetta, hai visto? Vai 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 risposta è il paese e non c'è l'ho un'altra maniera migliore un pizzo lo soggiorno dio vai 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 nel mezzo c'è via via c'è via via che cosa fa via via che ti fa questo attagliato venite su sto cazzo dai ragazzi no era perfetto oh mio dio mi sta fa finire l'atteggio ok poi dopo quando perdiamo dopo ci disperiamo di queste occasioni vai oh che merda di tiro ma chi è oh un po' tranquillo se ne va se ne va che cazzo che non fa il pallonetto io ci segno sempre così vi abbia guardate come corre oh guarda per rossa oh dio ma come fa perché mi sto ritrovando io tra le gambe ci ha detto bene calcola aia mamma mia ho preso il dono di russo orco due dai che si regge si regge si tiene si tiene si regge ole vecchio trapa non la prende guarda no no ma in porta guarda dobbiamo parlare che vai in porta porca troia non la prende e no perché stai finito oh e vabbè e dai cazzo no no ok meno male devo fare i vedi 5 volte stavo fingere del qua e tu dovevi venire e poi quando la cambia si tratta di fingere del là capito come ah è quello che trova indietro cazzo no 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 non ho mai visto il segnatore a culo incredibile è nato è nato è cammino del marcatellore ma no ma che ci hai oddio vaffanculo ma dai la parata non ce posso arriviamo per prima ehi 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 con due dai è russo non lo so tre ore che provati la prossima eccola è la è guai è guai io non manco vista che entrate è quello che ma ma davvero incredibile ce la meritiamo noi ce la meritiamo poco noi eccala mandalo mandalo lungo ce la meritavo non ho detto che la dicevo ma l'aveva presa no vecchio trapano ma se poteva buttà però annaggia c'è zanzare dentro casa vabbè possiamo tenere grazie mi manca poco eh oh me levati ma perché il mio venì addosso a te mazza reazione perché cristo perché fallo ho capito ma non ho porto più se ma non è ma passiamo a fare uno schema no io tiro da qua ma tu me la facci no io tiro no parte al risuoposto che io da qua ci tiro quindi mi cazzo fa insieme da qua ci tiro ah grande bravo e poco grande che era perché no mamma mi ha salvato mamma mi ha salvato questa partita è proprio come in golle c'hanno ragione quando ti dico no vecchio trapano dioko Lopez dai dai vi teniamo vai che fischia vai che fischia non fischia voglio fare un'altrazione oh dai prima vittoria prima partita della nuova divisione magari questa volta buona magari vincemo senza problemi tecnici e cazzi vari daglie noi ci becchiamo insomma stai grattando le palle noi ci becchiamo al prossimo video e grazie a tutti mi raccomando lasciate like e sosteneteci con un commento consigliateci magari una punta che sia buona in un certo livello alla fine perché stiamo e niente vi dobbiamo salutare perché si sta scrivendo abbattire la cosa quindi bella bella